Buongiorno, bentornati nel vlogmas dopo un paio di giorni di pausa Voi non avete idea delle condizioni in cui io sto iniziando questo vlogmas ma adesso ve le mostro Sto per dare un esame, tipo veramente adesso, cioè ce l'ho alle 3 e sono le 2.37 Sono qua sul team aperto con il professore che sta scrivendo Ho l'ansia a 6.000 ovviamente come prima di ogni esame orale perché questo è un esame orale ovviamente E sono qua che sto cercando di capire di che morte morirò ma vabbè Vabbè, non lo so, ho deciso di includere in questo vlogmas questo momento di panico In cui in realtà l'ultima cosa che mi verrebbe da fare è registrare ma non lo so Solidarietà per tutti gli studenti in sessione e per chi soffre di ansia tipo me All'esame che mi avete visto preparare in tutti questi vlogmas quando andavo in biblioteca Oppure studiavo da casa o in giro Era l'esame di storia della lingua italiana Sì niente, in realtà diciamo che non ho dedicato proprio tutto tutto il tempo che avrei voluto dedicare alla preparazione in questo esame Prof, se mi stai sentendo, ciao Però no, in realtà lavorando lo so che è così Cioè cerco di non mettermi in croce comunque Chi è studente, lavoratore come me lo sa che non è facile organizzarsi tra orari di lavoro e orari di studio E a volte sia troppo stanchi e è un po' difficile stare dietro a tutto Però sì, io sarò sempre una studentessa lavoratrice Quindi mi devo abituare Cioè ormai mi sto abituando, non so come dire Però comunque, prima di un esame, soprattutto se orale La situazione è questa Quindi ansia 6.000, mani che tremano Panico di tutte le cose che si sanno ma magari non si sanno così bene Quindi viene l'ansia anche delle domande che possono essere fatte Io ho fiducia nell'universo Nel senso che ho studiato comunque E penso di aver studiato abbastanza Se no ovviamente non sarei qua Io se mi accorgo anche solo il giorno prima Che quello che ho studiato potrebbe non essere sufficiente Lo lascio perdere piuttosto che giustamente farmi bocciare No, credo di aver studiato il giusto Forse avrei potuto fare di più Non con i tempi che avevo senz'altro Però purtroppo gli altri appelli di questo esame sono veramente troppo scomodi E finirebbe che se non lo do adesso dovrei darlo in estate E io no, no Ci godiamo questi minuti per l'esame No vabbè mi consolo perché Allora ho deciso di fare questo vlog ma sto oggi Perché adesso c'è questo momento di estrema ansia, agitazione e tensione Però in realtà quando finisco l'esame E secondo me lo finirò a brevissimo Perché dovrei essere la prima E siamo tipo in due a darlo Credo Una volta finito l'esame Quindi presto spero Voglio darmi una sistemata alla stanza Perché è scoppiata una bomba Come ogni volta prima di un esame E poi voglio andare a fare i regali di Natale È il momento ragazzi Ormai è il 16 oggi Cioè Natale è tra neanche 10 giorni Io sono indietrissima Quest'anno ho deciso che Mi farò proprio dei pensierini Cose che possono far piacere Che conoscendo le persone a cui li faccio Faranno piacere Quindi sì, oggi vorrei andare a fare un po' di regali di Natale Dopo questo esame Anche per rilassarmi Perché poi io Prima degli esami sono così Cioè sono tutta tesa Un'ansia, la tachicardia Ho caldo Poi appena finisco ovviamente mi va giù l'adrenalina Quindi mi si riapre lo stomaco e mi viene fame Primo, secondo, respiro proprio Quindi poi ho voglia di uscire a farmi un giro Di non pensare a robe Anche l'anno scorso Mi ricordo che dopo un esame Per cui però avevo fatto tipo 7 ore di attesa Per darlo, un casino Poi ero andata a farmi un giretto Mi ero rilassata È proprio il mio rito Di solito quando do un esame orale Poi il resto della giornata deve essere Di relax Di cose che mi fanno piacere Quindi Anche perché da domani Mi rimetto sotto Perché martedì ho un altro esame Però questa volta è scritto Per fortuna Pace amore a chiunque stia affrontando la sessione Siamo tutti sulla stessa barca Ne usciremo in qualche modo Che poi questo è un esame interessante Ma non Cioè non so come dire Non è che mi importi particolarmente del voto Di questa materia Perché per quanto possa essere interessante Non l'ho studiata proprio con tutto questo piacere Perché comunque è molto Ci sono moltissime nozioni da memorizzare Ci sono tante cose da sapere Anche cose che sono proprio su un piano storico Che magari mi interessa di meno Perché per quanto la storia sia interessante Non è proprio la mia materia preferita Quindi in realtà Sono agitata lo stesso Però di fatto Che vada benissimo Che vada così così Che vada bene Che Boh Vada male non credo Comunque non mi interesserà particolarmente Vabbè speriamo bene Però vabbè Bando alle ciance Sono i 42 Manca un quarto d'ora Quindi io direi che potrei Mettermi a ripetere due cose Che vi fanno venire l'ansia Per il resto in realtà Contando che sono quasi le 3 Io è dalle 10 del mattino Che ripeto Quindi in realtà Sono in quella fase In cui non ne posso più Cioè Vada come vada Voglio togliermi l'esame Basta Non pensarci più Ah E comunque vorrei far notare Questi che sono i miei orecchini Da esame orale Cioè io tutti gli esami orali Che ho dato all'università Li ho dati con questi orecchini qua Che non so da dove vengano Ma Mi hanno sempre portato fortuna Quindi Speriamo che anche questa volta Mi porti una fortuna Sono riemersa Che bello Finito tutto In realtà già da un pochino Sono le 4 e mezza Io ho finito Ho chiuso tutto alle 4 E Poi tra l'altro Mi ha esaminata per prima Quindi proprio sono andata Sparata Aperto Ho iniziato l'interrogazione E ho finito Dopo mezz'oretta circa Molto bene Ho preso 30 Sono felice Non me lo aspettavo per niente In realtà Perché comunque È partito con uno degli argomenti Che ero uno di quelli Che non mi entusiasmava Era un po' un esame diviso A secoli E io avevo tipo Il 700 L'800 Che proprio Non mi dicevano niente Cioè c'è da dire Ma non lo so Le avevo visti un po' meno Erano in capitoli in fondo Sapete quando arrivate stanchi Morti Quindi ero tipo No 700 L'800 No dai E invece no Mi ha chiesto proprio il 700 Sono gufata Ora posso togliermi Gli orecchini Da orale Hanno fatto il loro lavoro E basta Adesso sono molto contenta Perché posso finalmente Prendermi due ore di svago Prima di domani Che devo ricominciare a studiare Adesso Do una sistemata alla stanza Ma qualche minuto Perché poi vorrei uscire Perché se no viene tardi E non riesco a fare i miei giri Mentre Io stavo facendomi gli affari miei Dopo l'esame Mi è arrivato un pacco Che adesso vi faccio vedere Praticamente ho ricevuto Questa scatolina Da boutique Blanchard Che è un negozietto online Di una ragazza dolcissima Con la quale Ho già collaborato Una volta abbiamo rinnovato La nostra collaborazione E mi ha mandato Due capi bellissimi Uno è questo maglione qua Ovviamente marroncino Nella mia palette Molto molto bello E molto caldo Soprattutto sembra Quindi l'ho preso Per quello E poi questo Che è il pezzo forte Che è questo cappottone lungo A vestaglia Con il laccio in vita Ora qua ovviamente Non rende niente Ma indossato Sicuramente fa la sua figura Bellissimo Non vedo l'ora di indossarlo Ma poi vi farò vedere Delle foto su Instagram Fatte bene Bando alle ciance Mi sta già venendo Il tipico male di testa Che mi viene ogni volta Dopo un esame Penso che riordinerò Un po' la stanza Mi farò un caffè Per restare sveglia E uscirò Direzione regali di Natale Pensierini Non ho neanche fatto liste Di cose Proprio prenderò Un sacco di pensierini Qua e là Per tipo tutti Voglio andare Alle bancarelle di Natale Ci sono già stata con Giulia Non un po' di volte Però Andarci da sola So che mi aiuterà A mantenere il focus Di cosa voglio comprare Quindi sì Direi direzione centro Più che altro Ok Sono ufficialmente pronta Tra l'altro FFP2 Perché la Liguria Giorna in zona gialla Dal 20 Ottimo Comunque mi sono sistemata Qua c'è un gioco dei gatti E niente Basta Adesso esco E vado a fare Un po' di regali Sperando che non ci sia il mondo Ma Giulia Nain già in giro Mi ha detto che Molto probabilmente C'è un raggente Ma vabbè Io e Giulia Abbiamo comprato Finalmente i maglioni Di Natale Abbinati Ce li abbiamo fatti Ciao Oliver Un gattino addormentato Che ciccione che sei Buonasera Qua c'è un Oliver Che spunta E i miei capelli Sono legionerati tantissimo Questa è la mia francia Dopo un pomeriggio fuori In cui ho passeggiato Ma c'era un pochino di vento Volevo concludere Il vlogmas di oggi Anche perché Sicuramente Sarà un vlogmas Abbastanza breve Però Ci tenevo a portarvi con me A questo esame Perché Un po' perché Negli ultimi due giorni Non ho avuto tempo Per vloggare Perché mi sono dedicata Completamente Al ripasso Per l'esame Appunto E allo studio Quindi veramente Non avrei Saputo Cosa mostrarvi Se non me Nel letto Struccata Disperata Che ripetevo Quindi sì Ci sono anche Le giornate così Però vabbè In realtà Questo era Uno dei due esami Che voglio dare Questo mese Il prossimo ce l'ho Martedì E oggi è giovedì Quindi comunque Da domani Riparto a bomba Con lo studio Quindi sì I vlogmas continuano Ovviamente Io continuo a farli Però saranno giornate di studio Fondamentalmente Fino all'esame di martedì E poi La prossima settimana È ufficialmente Natale Natale Che non so se riprenderò Perché in realtà Penso che Vloggerò fino al 23 Poi c'è Natale E poi Farò degli altri vlog Vabbè I vlog lo sapete Ormai sono diventati il format Fondamentale Il mio canale Principale Però Penso che vloggerò Poi per Capodanno Perché vado via Passo Capodanno Fuori Genova Se tutto va bene E Niente Non vi dico la meta Provate a indovinarla Vi do due indizi Vi dico che fa Molto freddo Ed è un ambiente E' un ambiente molto cozy Fatemi sapere Cosa ne pensate Cosa potrebbe essere Questa magica meta E niente Da me e da un Oliver Aggarmentato Io vi auguro Una buona giornata Perché voi vedrete Questo vlog Di pomeriggio Credo E noi ci vediamo Il vlog Masi domani Bis per ferete Ciao 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 Bureau Grazie a tutti. Grazie a tutti.